La cooperativa Medicar di Ragusa ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 15 unità lavorative. Una scelta che è stata giustificata, intervengono da FISA-SCAT-CISL, con il taglio dei servizi di assistenza domiciliare da parte del Comune dovuti all'esaurimento dei fondi PAC non più erogati dal Ministero. Auspichiamo quindi, proseguono dal Sindacato, che la politica faccia sentire la sua voce a partire dal Consiglio Comunale affinché si possano individuare soluzioni sostenibili, così come è accaduto nei giorni scorsi per la vicenda dell'Ipercop, ma anche per la ventilata chiusura del punto vendita presente all'interno del centro commerciale Ibleo. A questo riguardo, la stessa FISA-SCAT-CISL sottolinea che, proprio risera nei locali del Sindacato, si è tenuta una riunione con una forte delegazione dei lavoratori dell'Ipercop, ovviamente preoccupati per gli sviluppi futuri dell'avvertenza, personale della cooperativa che vuole ovviamente tornare a lavorare e che non vuole sentire parlare di ammortizzatori sociali. Grazie a tutti.